Grandi novità in arrivo per ottobre 2024. Se aspettavi l'assegno unico, gli aumenti per le pensioni minime o i bonus per invalidità, questo video è per te. Ma attenzione, c'è un importante cambiamento che riguarda i pagamenti INPS. Resta con noi fino alla fine per scoprire tutti i dettagli e non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle novità INPS. Partiamo subito con l'aggiornamento sull'assegno unico. Ci sono buone notizie per chi attende ancora gli arretrati o ha subito variazioni nei controlli. Questa settimana, infatti, sono in arrivo nuove date di pagamento con il completamento dei conguagli. Se sei tra coloro che aspettavano l'accredito su ex-RDC, preparati, perché entro venerdì 25 ottobre potrebbero arrivare i pagamenti. Passiamo ora al supporto formazione lavoro e all'assegno di inclusione. Le prime domande approvate vedranno i pagamenti sempre a partire dal 25 ottobre, con un leggero ritardo che ha creato qualche malumore tra i beneficiari. E attenzione! Anche per l'assegno di inclusione potrebbero esserci sorprese. I pagamenti potrebbero arrivare con qualche giorno d'anticipo, già da venerdì 25. Prepara il tuo calendario! E ora una novità dal 2025. Parliamo del bonus da 1.000 euro, raddoppiato rispetto agli importi precedenti. Questa carta speciale sarà destinata ai genitori di nuovi nati. Quindi, se diventerai genitore nel 2025, potrai beneficiare di un importante sostegno economico per i primi mesi di vita del tuo bambino. Una notizia fantastica, no? Per chi riceve la pensione minima, gli aumenti sono ormai alle porte. Dal mese di novembre ci sarà una rivalutazione del 2,7%, che porterà le pensioni fino a 64 euro in più al mese. Ma, attenzione, il governo ha già annunciato un ulteriore passo in avanti. L'obiettivo è di arrivare a 50 euro di aumento totale. Per quanto riguarda l'invalidità, ci sono novità importanti. A partire dal 2025, le procedure cambieranno radicalmente e ci saranno nuovi aumenti in vista. Se vuoi sapere esattamente come cambieranno le cose, assicurati di essere iscritto al canale per non perdere nessun aggiornamento. Infine, per chi ritira la pensione imposta, il ritiro sarà possibile già da sabato 2 novembre. Per tutti gli altri, il primo giorno bancabile sarà lunedì 4. Non dimenticare queste date importanti per organizzare al meglio il tuo ritiro. Queste erano le principali novità di ottobre e novembre 2024 riguardo ai pagamenti INPS, gli aumenti delle pensioni e i bonus in arrivo. Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto quello che ti spetta di diritto, metti un like a questo video, iscriviti al canale Speedy News e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. Ci vediamo presto per ulteriori novità. Ciao!